La questione degli abiti usati è un grosso business. In vent'anni abbiamo fatto un lavoro che era quello di svuotare i cassonetti di altri. A Caritas Ticino abbiamo deciso che il business lo volevamo fare anche noi, ma la sostanziale differenza è che lo volevamo fare in Ticino. Per far lavorare persone in disoccupazione presso il nostro centro di rancate. Significa considerare gli abiti dismessi come una sorta di materia prima. In questo momento le signore stanno scegliendo e selezionando gli abiti che vengono raccolti in tutto il cantone. Il business, se è dentro un concetto di economia etica, ci va benissimo. Infatti noi siamo convinti che dalla povertà si esce solo se si diventa soggetti economici produttivi.